Martedì 4 ottobre, buongiorno da Bianca Chiriatti. Papa Francesco ha raggiunto Amatrice e la zona rossa devastata dal sisma dello scorso 24 agosto. Ci racconta tutto Vincenzo Murgolo. Prima la visita privata agli studenti delle scuole, poi una lunga passeggiata tra le macerie. Papa Francesco è arrivato ad Amatrice poco dopo le 9 e si è intrattenuto per circa 20 minuti con gli alunni e gli insegnanti delle scuole elementari e medie. Vi sono vicino e prego per voi, ha detto Bergoglio ai ragazzi che gli hanno donato anche dei disegni. D'incontro molto bello e significativo ha parlato il parroco di Sant'Agostino ad Amatrice, Don Savino d'Amelio, che ha definito significativo il fatto che la visita si sia svolta in forma privata. Secondo fonti vaticane, nelle prossime ore Francesco si sposterà nelle altre località colpite dal sisma, facendo tappa prima ad Accumoli e poi ad Arquata del Tronto. E cambiamo argomento, il ministro dell'economia Piercarlo Paduan risponde a chi dubita che l'economia italiana possa crescere dell'1% nel 2017, come riportato nel documento di economia e finanza redatto dal governo. È un obiettivo ottimistico secondo alcuni commentatori, ambizioso secondo altri, ha detto Paduan. Anche noi consideriamo che questo obiettivo sia ambizioso perché abbiamo il dovere di esserlo e lo raggiungeremo con la prossima legge manovra finanziaria. E ci spostiamo a Roma perché ci sono delle novità sulla vicenda giudiziaria in cui è coinvolta Paola Muraro, indagata per abuso d'ufficio. Luca Lossito. Non si placano le polemiche sui rifiuti a Roma che hanno coinvolto Paola Muraro, assessore all'ambiente dell'Aggiunta Raggi. In particolare sarebbero sette le consulenze annuali sospette affidatele dall'AMA, l'azienda municipale per l'ambiente. L'inchiesta vede la Muraro indagata per abuso d'ufficio al pari dei dirigenti AMA, questi ultimi al centro anche di altre indagini tra cui mafia capitale. Gli accertamenti della procura sui contratti affidati dai vertici di AMA alla Muraro partono dal 2009. Consulenze che di anno in anno sono sempre aumentate di valore per un totale di 500 mila euro, pur lasciandole gli stessi compiti. Non solo, destano sospetti anche gli incarichi singoli che i manager della municipalizzata hanno affidato alla Muraro nello stesso lasso di tempo. Gli inquirenti vogliono inoltre capire se l'assessore, pur comparendo formalmente come una consulente esterna, fosse di fatto una dirigente aggiunta. L'uragano Matthew, che sta devastando Haiti in queste ore, ha già fatto la sua prima vittima. Si tratterebbe di un anziano della capitale Porto-Prince, dove le piogge battenti stanno causando frane e smottamenti. Nella giornata di domani la tempesta, la più potente dal 2007, dovrebbe arrivare a Cuba, dove è già stata dichiarata l'allerta meteo. Cambiamo argomento, anche nel giorno del terzo anniversario della strage di Lampedusa, ci sono stati sbarchi nel canale di Sicilia. Tutti i dettagli nel servizio di Graziana Capurso. 39 barconi, 18 interventi della Guardia Costiera, della Marina Militare e delle navi dell'ONG, 9 cadaveri recuperati, di cui 7 sullo stesso gommone. Sono i numeri che hanno segnato l'avvento di una nuova ondata di traversate, ripartite proprio nella giornata nazionale in memoria del terzo anniversario della strage di Lampedusa, dalle coste della Libia verso l'Europa. Oltre 6.000 sono stati migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Tra le persone tratte in salvo, tre donne e un bambino risultano in gravi condizioni e un'altra persona è morta mentre veniva trasportata dalla Guardia Costiera verso la terraferma. Gli sbarchi sono ripresi grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche che hanno determinato un nuovo afflusso dopo alcuni giorni di mal tempo. E chiudiamo con una notizia dal mondo della scienza. Il Nobel per la fisica 2016 va a tre ricercatori britannici, Dowless, Haldane e Kosterlitz, premiati per la scoperta del volto esotico della materia. Uno studio su come cambiano alcune sostanze in condizioni e ambienti inusuali che aprirà le porte alla progettazione di materiali innovativi come superfluidi e superconduttori. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione.